Bentornati su Italian Military Archives e oggi con un video particolare ed unico nel suo genere, perché come sapete sul canale non faccio video recensioni, che sia al massimo qualche consiglio di lettura, ma l'uscita del film Comandante, che tratta delle vicende del sommergibile Cappellini e del comandante Salvatore Todaro, imponeva insomma una recensione che non vuole essere una recensione cinematografica, in quanto insomma non è il mio campo, ma vuole essere una recensione sull'aspetto storico e un attimino sull'aspetto tecnico, per quanto concerne cose legate a sommergibili, seconda guerra mondiale e quant'altro. Quindi vediamo subito una serie di cose. Come avrete magari visto, i più attenti, per questo film è stato realizzato un modello del sommergibile Cappellini, una replica molto fedele del sommergibile Comandante Cappellini, realizzata da una ditta specializzata e che poi è stata riassemblata a Taranto, montata a Taranto nel bacino Ferrati, dove poi è stato eseguito una sorta di piccolo varo, se vogliamo, in bacino. Quindi questa cosa molto bene perché permette di non ricorrere alla CGI, che spesso può risultare stucchevole, si può notare, può invecchiare male, e quindi dal lato tecnico, realizzazione del simulacro, del sommergibile, nulla da dire. Poi gli interni, non so, immagino gli interni siano stati realizzati in un teatro di posa, gli interni pure sono riusciti molto bene, riescono a dare l'atmosfera claustrofobica, dei sommergibili, come abbiamo imparato in altri film, e anche la strumentazione, i compartimenti, i locali del battello, insomma, sono fatti molto bene. Il protagonista, Todaro, interpretato da Pierfrancesco Favino, mi è piaciuto, mi è piaciuta la caratterizzazione che ha dato Favino a Todaro, un personaggio, come sappiamo, molto singolare, molto sui generis, stravagante, orientalista, appassionato di cose esoteriche, di oriente. Questa cosa emerge in qualche punto del film, non tantissimo, ma comunque te la fanno capire. Poi, interessante anche l'inizio del film, dove c'è questo incipito flashback, dove si accenna, diciamo, all'incidente che Todaro ha nel 1933, per l'esattezza, nel quale lui si procurerà delle fratture, delle lesioni alla colonna vertebrale che lo obbligheranno a portare il busto per tutta la vita e a anche effettuare le punture di morfina, come si vede nel film. Mi piace ricordare questo, che l'evento in cui lui ha l'incidente è molto particolare, in quanto lui faceva parte di un gruppo della Regia Marina che stava sperimentando il lancio dei siluri da idrovolanti Savoia Marchetti S55. Nella fattispecie l'idrovolante lancia il siluro abbastanza a pelo d'acqua, la colonna d'acqua del siluro risultante dall'impatto con l'acqua colpisce i piani di coda dell'idrovolante e questo provoca la caduta in mare dell'idrovolante in cui poi in questo incidente Todaro si procura quelle fratture. Quindi insomma una cosa molto particolare perché sappiamo tutte le vicende del ritardato sviluppo del riosilurante in Italia che abbiamo trattato in altre puntate. La trama in generale del film copre nemmeno un mese di vicende, in sostanza si riferisce alla missione del Cappellini in Atlantico della fine del Quaranta in cui appunto c'è il famoso episodio del cabalo. La trama è stata, è stato detto dagli autori, dal regista, la trama è stata romanzata, cioè gli avvenimenti reali sono stati romanzati, poi vedremo nel dettaglio un po' come, e questo diciamo ci può stare per offrire, per adattare una storia reale a un prodotto cinematografico e anche per presentarla al grande pubblico senza complicare troppo la cosa. Quindi diciamo fatte queste premesse, cioè l'adattamento ci sta. Quindi adesso invece veniamo un po' alla parte un po' che più ci compete in questa recensione, ovvero la fedeltà storica degli avvenimenti. Allora, dopo l'incipit flashback, come vogliamo chiamarlo, all'inizio sull'incidente, le vicende prebelliche, siamo trasportati alla Spezia, nella base della regione marina di La Spezia, nel settembre 40, in particolare il 29 settembre, la data dell'inizio della missione del Cappellini. Il Cappellini doveva partire per l'Atlantico, doveva eseguire una missione, come viene detto nel film, di Aguato, in delle zone prestabilite e poi dopo recarsi a Bordeaux. Bordeaux dove c'era la base dei sommergibili italiani, la famosa Betasom, di cui ho parlato in un video già presente sul canale, sulla panoramica operativa dei sommergibili schierati a Betasom, delle loro attività, e in una live dedicata con Antonio Raspa, in cui abbiamo visto proprio la nascita e l'evoluzione della base, con molti dettagli infrastrutturali, vita quotidiana e quant'altro. Vi metterò i link in descrizione per recuperare quei video. Detto questo, il Cappellini parte, c'è un periodo di navigazione verso lo stretto di Gibilterra, in cui ci sono un po' di episodi di vita quotidiana a bordo del sommergibile, qualche magari momento un po' forse troppo sopra le righe, mi verrebbe da dire. Si arriva poi al passaggio dello stretto di Gibilterra, una cosa di cui in un dialogo tra Todaro e Marcon, che nel film pare sia, cioè è il secondo ufficiale, ma in realtà un Vittorio Marcon era imbarcato sul Cappellini, ma era un marinaio semplice, mentre il secondo ufficiale era Atos Fraternale, che viene citato nel film. Qui invece c'è questo amico anche di Todaro, a questo Marcon, con cui c'è un dialogo dove si parla del passaggio di Gibilterra. Si parla di tutte le difficoltà annesse e connesse al passaggio di Gibilterra. Qui c'è una piccola gaffa, mi verrebbe da dire, perché si fa riferimento a una precedente missione del Cappellini agli ordini di un altro comandante, in cui il Cappellini sarebbe stato respinto, sì, dagli inglesi e mi pare Marcon dice, ma perché poi non è andato a Bordeaux? Bordeaux all'epoca di quella prima missione del giugno, mi pare giugno-lulio 40, la base di Bordeaux non era ancora operativa. Verrà istituito il gruppo a fine agosto e poi nelle settimane successive verrà realizzata, si inizierà a realizzare la base. Quindi è questo piccolo inciampo. Si arriva a Gibilterra, c'è una breve scena dove il Cappellini viene sottoposto a un attacco con bombe di profondità dai cacciatori, immagino dai cacciatori penieri inglesi. Poi c'è una scena in cui il Cappellini attraversa uno sbarramento di mine e questo qui diciamo c'è un problema perché nelle acque che attraversa il Cappellini dello stretto di Gibilterra i fondali hanno una profondità tale che non si adattano, anzi è impossibile piazzare uno sbarramento di mine lì e quindi questo piccolo dettaglio mi vorrei far notare però nel senso capisco la necessità anche di creare un momento di tensione nella prima parte del film, viene utilizzato l'espediente della caccia con le bombe di profondità e poi il Campominato. Il Campominato lì non ci sarebbe dovuto essere per la profondità come vi ho detto però c'è una cosa che poi non mi è tornata molto ovvero il sommergibile è in emersione e in emersione incappa nei cavi di queste mine. Ora si intuisce da come è costruita la scena che il sommergibile stia risalendo abbastanza velocemente in superficie e però il timone di profondità di prua si incastra con un cavo di una mina e questo provocerebbe l'arresto del sommergibile. Ora mi viene difficile pensare ecco che a livello di fisica un battello di più di migliaio di tonnellate di dislocamento in risalita quindi in emersione con una certa spinta sia bloccato da questa mina che aveva sì un ancoraggio al fondo ma non fisso ecco e comunque non troppo capace di arrestare un battello di quella mole e quindi questa dubbia fisica di questa scena e poi semmai sì in caso di l'incontro del battello con una mina al cavo di una mina il battello si si ferma ma per cercare di disincagliarsi usiamo questo termine dal cavo liberarsi dal cavo per mettersi al riparo dalla mina mina che presuppongo sia una mina urto perché se era una mina magnetica il cappellini sarebbe saltato su quella mina qui poi c'è il tentativo di liberarsi come viene fatto il tentativo di liberarsi un uomo esce dal sommergibile attraverso la garitta un munito di respiratore e cesoie per tagliare il cavo e liberare il sommergibile ora questa è una scena molto cioè appunto un punto di tensione della prima parte del film che è una citazione se vogliamo di Al-Fatah un film del 42 dove vengono mostrate scene di combattimento scene di vita quotidiana a bordo di un sommergibile della regia marina tra l'altro il comandante del battello del film è Bruno Zelig l'ultimo comandante dello sci-re che poi perirà di lì a poco in missione di guerra quindi scena molto simile non mi è tornato molto la maschera che lui usa lui ha un respiratore da personale con la bombola non mi tornava molto la maschera mi piaceva molto più quella di Al-Fatah quindi reputo quella forse un pochino più più fedele alla realtà detto questo poi il marinaio che esce fuori perisce in questo si sacrifica per liberare il sommergibile il sommergibile poi emerge l'equipaggio esce respirano a pieni polmoni perché sappiamo negli spazi di un sommergibile l'aria è molto pesante e quindi c'è questo momento insomma di di rilassamento dopo il momento di tensione dopodiché c'è questa scena molto apprezzato dove viene attaccato un grammofono e viene messo un disco dove c'è l'inno dei sommergibilisti canzone molto diciamo che cattura l'attenzione si direbbe catchy oggi e a un certo punto la scena dove poi questi marinai cantano sono in superficie sono sulla coperta del sommergibile cantano c'è un attacco aereo un attacco aereo che diciamo un po' anche qui si poteva fare un po' meglio perché un aereo arriva dal nulla sgancia le bombe due bombe e inizia una scena di combattimento quindi insomma un aereo fa rumore si sarebbe un attimino visto sentito dal lontano di solito delle vedette sono sempre in coperta quindi c'è questa scena di combattimento dell'attacco aereo i marinai rispondono al fuoco con le mitragliere da 13.2 antiaeree anche qui devo dire riprende una scena di alfa tau dove c'è un attacco aereo i marinai armano le mitragliere rispondono al fuoco abbattano l'aereo anche qui una precisazione da da rompiscatole qualcuno potrebbe dire bullonaro l'aereo che si vede è chiaramente un monomotore dalla bassa quindi potremmo pensare uno speedfire un hurricane ma aereo che non erano utilizzati per la ricognizione marittima e tantomeno per la caccia antisom durante l'azione un marinaio che utilizzava la mitragliera viene ferito e viene ferito all'occhio e dopo c'è questa scena dove Todaro lo ricuce e gli dice questa cosa che è vera io non ti posso adesso decorare ma ti decoro in questa maniera da ora in poi mi potrai dare del tu tu comandante questa è una cosa che è successa però non è successa in quell'occasione è un fatto avvenuto nel gennaio del 41 in un combattimento contro un mercantile non contro contro un aereo però vabbè anche qui posso capire il romanzare e mettere assieme alcuni eventi distinti poi veniamo a insomma il punto di svolta insomma l'incontro con il cabalo c'è l'azione di superficie contro il cabalo sappiamo che il cappellino ha vista nella notte il piroscafo belga attacca il piroscafo di cui non avevano in un primo momento capito la nazionalità però dividendo che era un mercantile armato decidono di attaccarlo durante il combattimento con il cabalo c'è il ferimento a morte del tenente del genio navale Danilo Stiepovic che anche questo è un fatto avvenuto nel gennaio del 41 nella stessa circostanza del ferimento del marinaio che ricordavo precedentemente anche questa scena comunque abbastanza fedele a quanto viene riportato Stiepovic perde la gamba chiede di rimanere in coperta per vedere l'affondamento della nave nemica e espirerà di lì a poco quindi anche qui comunque ho apprezzato che è stata ricordata questa questa vicenda inserendola in un'altra che comunque ripeto nell'ottica di un adattamento cinematografico ci può stare assolutamente detto questo c'è la vicenda del recupero dei naufraghi anche qui abbastanza fedele vengono ripescati prima in acqua 5 5 supersiti poi venne recuperata la scialuppa con il resto dei 21 più 5 naufraghi inizia il viaggio quindi il combattimento avviene la sera del 15 ottobre ricordiamo siamo partiti dalla Spezia il 29 settembre il 16 la barca viene presa a rimorchio la scialuppa pardon dei sopravvissuti viene presa a rimorchio e il 17 di ottobre la barca si si spezza e si frantuma e vengono presi a bordo proprio del cappellini i naufraghi una parte la gran parte vengono stipati nella nella falsatorre e gli altri vengono presi a bordo detto questo il film poi procede c'è da lì tutta la parte della convivenza per poi arrivare allo sbarco dei dei naufraghi e poi la la conclusione del film c'è in realtà un'altra scena con cui ho un po' di problemi che è quella verso la fine prima dello sbarco dei naufraghi in cui appare un cacciatore per lineare inglese che sembra quasi immobile ad aspettare il cappellini circostanza molto strana i cappellini sta navigando in inersione non se si immerge i naufraghi che sono stipati nella falsatorre sono condannati a morte perché non hanno possibilità di scampo e gli inglesi iniziano a sparare tra l'altro c'è una scena un po' confusa arrivano delle cannonate in acqua ma poi ci sono degli scoppi in area come se fosse una flac contraerea che non ha molto senso e a questo punto Todaro il nostro Favino Todaro manda un messaggio radio agli inglesi dove dice che ha preso a bordo questi naufraghi li sta portando alle azzorre e chiede di passare questa scena dove gli inglesi poi ricevono questa notizia questo messaggio e il comandante britannico ordina il cessato il fuoco il cappellini defila di fianco al caccio torpediniero inglese e prosegue questa è una scena davvero un po' eccessivamente romanzata non è assolutamente successa e questa scena proprio non non mi è piaciuta perché insomma è eccessivamente romanzata quindi questa mi permetto di di con questa scelta mi permetto di dissentire detto detto questo altre cose che non mi sono piaciute diciamo il film con tutte le premesse che ho fatto ci poteva stare però ci sono state un paio di scene che proprio non mi sono andate molto a genio e ci includo questa appena citata con gli dell'incontro con gli inglesi la scena delle patatine fritte nel senso la scena delle patatine fritte ok un po' una situazione alla vogliamoci tutti bene ok posso capire che può risultare simpatica virale per per i gusti d'oggi va bene ok l'avrei potuto accettare però quando nella scena successiva c'è la scena dove il cuoco napoletano prende il mandolino e canta sul dato innamorato beh lì un po' troppo momento stereotipi un po' troppo macchiettistico mi verrebbe da dire lì ho detto beh questo proprio no quindi questo non mi è piaciuto e poi il dialogo finale di congedo tra Todaro e il comandante del del cabalo c'è questo dialogo dove in sostanza il comandante gli dice lo ringrazia gli dice io però al suo posto non l'avrei salvata perché ci ha salvati e lui e Todaro risponde un lapidario perché siamo italiani ora questa io l'ho trovata lì per lì un po' una una battuta un po' ruffiana passatemi il termine perché un po' un po' a rivangare la novella degli italiani brava gente non lo so un po' ci ho trovato un eccesso di retorica che non serviva perché secondo me gli italiani lì in quella situazione la vicenda storica ma anche altre come quella anche possiamo ricordare del sommergibile ma la spina ma anche quello che farà Todaro di lì a qualche mese in altre circostanze che salverà altri naufraghi già questi fatti insomma deponevano a favore del comandante della della situazione in cui si era trovato e che aveva preso quella determinata scelta secondo me non c'era bisogno di fare questa questa battuta che forse può può risultare un po' troppo retorica ecco potevano replicare il dialogo che pare abbia effettivamente avuto luogo tra il comandante e cioè tra Todaro e non ricordo se era il comandante o un altro ufficiale del cabalo che vi vi leggo un po' più o meno è andato così dopo aver visto come vi siete comportato con i nemici mi chiedo come voi siate con gli amici e che stima questi debbano avere di voi diteci almeno il vostro nome comandante questo ovviamente era il belga che si rivolgeva a Todaro Todaro risponde a che servirebbe sono un uomo di mare come voi e credo che al mio posto avreste fatto lo stesso il belga a questo punto ribatte ho quattro figli e vorrei che nelle loro preghiere ricordassero il nome di chi salvò il loro padre a che Todaro sempre molto modesto risponde dite ai vostri figli di pregare per Salvatore Bruno che era Salvatore Bruno i due nomi di battesimo di Todaro non rivela il cognome questo mi sarebbe piaciuto di più hanno fatto questa scelta amen magari potrebbe anche essere un rimando all'altra frase attribuita a Todaro quella famosa su i duemila anni di civiltà che gli italiani avrebbero rispetto ai tedeschi anche quella vicenda un po' romanzata perché pare che una cosa del genere Todaro l'abbia detta secondo alcune testimonianze ma con un collega comandante non certo con l'ammiraglio in risposta all'ammiraglio Dönitz non certo con l'ammiraglio Parona il comandante di Betasom allora detto questo io avrei preferito che fosse stato inserito il dialogo originale detto questo il film poi si conclude e il cappellini parte il cappellini ecco che ripeto ho parlato molto bene del simulacro della ricostruzione del cappellini l'unica cosa magari che non mi è piaciuta è che faceva un po' troppo fumo nel film come se avesse un problema all'apparato motore ecco forse un po' troppo fumo faceva il sommergibile nel film ma anche questo dettaglio da da Bullonaro ecco detto questo per concludere capisco le necessità di adattamento cinematografico e per farlo digerire presentarlo al grande pubblico penso a grandi linee che sia un film che vada bene per il grande pubblico io da umile appassionato di storia navale che presto attenzione a alcuni dettagli tecnici e militari ho storto il naso in alcuni punti ve l'ho detto però mi rendo conto anche che li noteranno in pochi e quindi non voglio fare il puntiglioso su questo capisco che un prodotto cinematografico ha delle esigenze mi verrebbe da dire che dal punto di vista storico militare ho molto più apprezzato tanto per citare un altro film con Favino è la La Main La linea del fuo film dei primi anni 2000 molto molto bello per concludere ci sono come vi ho detto un paio di scene battute che a mio avviso fanno perdere un po' di eleganza e credito al film patine fritte il mandolino la battuta finale secondo me potevano essere gestite un po' diversamente e il film ne avrebbe guadagnato tantissimo come ho detto performance di Favino mi è piaciuta ricostruzione del sommergibile fantastica salvo la questione del fumo penso che sia un film che potrà piacere al grande pubblico ma che allo stesso tempo potrà attirarsi delle polemiche non sono non ho nessunissima voglia di infilarmi in polemiche di battiti mi volevo solo limitare a segnalare qualche elemento riguardo alla fedeltà storica tecnica di alcune parti del film e questo è beh spero che questo video un po' anomalo un po' unico nel suo genere per gli standard del canale vi sia vi sia piaciuto prossimamente andrò ospite assieme a Giovanni Cecini dall'amico Gianluca di storia dalla storia per fare una live dibattito recensione sul film quindi vi metterò il link in descrizione da questa live appena sarà disponibile vi metto anche la recensione che ha fatto Giovanni Cecini del film cui grosso modo sono d'accordo salvo alcuni aspetti di cui avremo modo di dibattere detto questo grazie dell'attenzione alla prossima su Italia Military Archives di